Anche oggi abbiamo fatto una buona gara, nonostante un vento insidiosissimo siamo riusciti comunque soprattutto nel primo tempo a fare una partita di spessore creando qualche occasione da gol e andando in vantaggio meritatamente. Secondo tempo abbiamo un pochettino subito soprattutto nel finale queste palle vaganti e la loro reazione però siamo stati bravi a reggere l'urto e dimostrarci squadra solida e direi che abbiamo meritatamente vinto la partita. Sicuramente dovevamo essere più concreti nell'ultimo passaggio o nel concludere le situazioni che abbiamo creato però dai questo ci serve di lezione e di esperienza per le prossime volte però ritengo che la squadra è stata molto bene in campo, ha fatto quello che doveva fare ha lottato fino all'ultimo. E ora la Fiorentina c'è da preparare una sfida davvero importante, quarta di finale con una delle grandi favorite di questo torneo? Ma sì, noi ci arriviamo con la consapevolezza di aver fatto bene il nostro cammino, siamo sereni, siamo carichi abbiamo voglia di andarci a giocare questa partita, sicuramente la stanchezza si farà sentire però ripeto quando la stanchezza è accompagnata dai risultati e dalle prestazioni si sente un pochettino meno è chiaro che dovremo essere bravi come siamo stati bravi fino adesso nella gestione dei minutaggi con la rosa a disposizione e poi vedremo come andrà a finire che vinca il migliore. Il torneo per me e per la squadra sta andando abbastanza bene, adesso cerchiamo di venerdì fare bene passare il turno perché l'obiettivo è sempre di vincere tutte le partite poi per i quattro gol succede, vengono con lavoro, grazie anche alla squadra potevamo fare altri gol però con determinazione, con sforzo, con tutto, con il spirito di gruppo abbiamo conquistato questa vittoria, anche 1-0, basta 1-0, basta un gol per finire la partita però cerchiamo di migliorare questa cosa qua. Io abbastanza bene, fino adesso con la squadra, anche fuori del calcio mi trovo abbastanza bene sono contento qua e spero di continuare qua. Giacomo, grande vittoria del Sassuolo, meritata e oggi non sei stato inoperoso, hai lavorato. Sì, bella vittoria, ci voleva, volevamo andare avanti e ci stiamo riuscendo. Per quanto riguarda la partita sappiamo che più andiamo avanti più le squadre, il tasso di difficoltà si alza e quindi siamo pronti ad affrontare sempre uno step maggiore di difficoltà. Si poteva chiudere prima, in certe ripartenze, però non è stato fatto, comunque meno male che è arrivata la vittoria lo stesso. Sassuolo ai quarti di finale, per te è una partita particolare, sarà Fiorentina-Sassuolo? Sì, sì, è una partita particolare, ho passato quattro anni a Firenze però affronterò questa partita come sempre, col sorriso e cercando di dare il massimo e vince la partita appunto.